freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance vi racconto invece un po il laboratorio che abbiamo fatto noi siamo partiti io sono partita proponendo una riflessione sul approccio che abbiamo ai gruppi alle comunità ai network è una riflessione non mia non me ne prendo la paternità l'ho imparata la persona molto più brava di me uno psicologo del lavoro stefano pasqui che si muove su questo diagramma i cui assi sono da una parte il principio di unità da una parte separazione dall'altra cioè quanto siamo propensi a pensare in senso collettivo quanto siamo propensi a pensare invece in senso individuale qual è il principio di separazione quello che ci fa dire ognun per sedio per tutti meglio soli che male accompagnati quindi è proprio l'egocentrismo tipico così diffuso nella nostra mentalità comune invece l'unità è invece quello che ci fa propendere per fare collettivamente affrontare insieme un qualcosa diciamo se ne esci da solo è egoismo se ne esci insieme politica ecco questa cosa qua allora chiaramente sono due estremi e non è detto che noi siamo sempre da una parte o dall'altra a volte oscilliamo e a volte siamo più propensi verso l'uno l'altro polo e poi l'altro asse invece quello fra aspettative principio di realtà aspettative significa essere in qualche modo il wishful thinking pensare che tutto andrà bene e principio di realtà a volte sconfina anche un po con il cinismo dire il mondo è cattivo e io lo so e mi regolo allora come ci quali sono gli atteggiamenti psicologici possibili rispetto a questa distribuzione da una parte i bambini vivono nell'egocentrismo più totale tutto il mondo ruota intorno a loro ma al tempo stesso hanno un'enorme fiducia che tutto il mondo continuerà a ruotare intorno a loro quindi sono in questa bolla in cui appunto si aspettano di essere il centro dell'universo nell'adolescenza scopriamo il gruppo scopriamo il clan diventiamo improvvisamente fusi una cosa sola con la nostra compagnia il nostro gruppo la squadra in cui giochiamo continuiamo ad avere una fiducia assoluta che tutti ci verranno dietro che ciascuno metterà nel gruppo la stessa energia lo stesso entusiasmo la stessa disponibilità che ci mettiamo noi poi a un certo punto prendiamo uno più sdentate e quindi arriviamo al momento della maggiore età in cui torniamo egocentrici e autocentrati e convinti che appunto abbiamo capito adesso abbiamo capito come funzionano le cose il mondo è egoista e cattivo e quindi io penso per me e poi si spera un certo punto arriviamo a una condizione di maggiore maturità in cui capiamo che invece la dimensione collettiva e comunitaria ci fa a costruire delle cose che da soli sarebbe impossibile fare e comunque può avere delle potenzialità di moltiplicazione delle energie per tutti al tempo stesso non abbiamo delle aspettative magiche e irrealistiche sul contributo che sia noi che le altre persone potrebbero dare e quindi diciamo sappiamo misurarci diciamo lo possiamo fare insieme può funzionare meglio se sappiamo come giocarcela quindi l'invito era ragione a vedere come ci poniamo noi di fronte alle ai gruppi alle comunità di cui facciamo parte e ne abbiamo elencate tutta una serie possibili di possibili esempi e valutare anche un pochino quanto siamo maturi e adulte nella nella affrontarle o quanto magari in certi momenti pecchiamo di eccessiva entusiasmo eccessivo ottimismo o per converso eccessivo cinismo fatto questo ragionamento siamo arrivati a vedere quali sono gli elementi che costituiscono una comunità o un network sono elementi di vario tipo sono le persone che ne fanno parte e anche come decidiamo chi può farne parte chi non può farne parte quanto siamo disponibili ad accogliere persone nuove nel gruppo in base a criteri che definiamo di scelta che definiamo quindi esclusione o inclusione i nuovi arrivati hanno lo stesso gli stessi diritti lo stesso diritto di parola lo stesso diritto di decisione di chi c'era dall'inizio godono degli stessi vantaggi possono godere degli stessi vantaggi che derivano anche dal valore che abbiamo costruito noi in tutti questi anni se arrivano persone diverse dalla persona standard da cui siamo abituati vedere il freelance camp quanto saremo disposti a aprire includere e ampliare la nostra visione sono tutti temi interessanti da questo punto di vista è uscito a fuori da una parte la percezione che siamo molto social media cosi centrati come si diceva prima non si è detto in questo modo ma effettivamente c'è sempre stata una prevalenza di digital qualcosa che deriva anche dalla storia dal fatto che l'iniziativa il progetto è nato da un'idea mia di Gianluca e di Miriam quindi insomma facevamo tutti più o meno un lavoro simile le persone con che ci seguivano che o che interagivano con noi facevano il nostro lavoro quindi era abbastanza normale in realtà poi per me che ho vissuto undici anni di storia cioè io ho visto passare per il freelance camp traduttrici interpreti guide turistiche infermiere psicologi coach abbiamo dei commercialisti abbiamo degli avvocati delle avvocate però in qualche modo sono sempre percepiti come si vabbè però alla fine siano tutti digital e allora da una parte mi viene da dire beh non è così dall'altra però ci rifletto e dico come possiamo fare che non sia così e non sia percepito così come possiamo fare a far sì che persone che comunque fanno un lavoro fanno lavori di altro tipo ma comunque si scontrano quotidianamente con la difficoltà di farlo in modo indipendente capiscano che nella nostra comunità c'è del valore lo possiamo fare attraverso il passaparola ma lo possiamo fare anche raccontandoci chiamandoci in modo diverso effettivamente Giulia diceva io sono commercialista non mi definirei mai come una freelance quindi il fatto stesso che si chiami freelance camp forse per certe categorie in qualche modo passa un messaggio che non è roba per noi sì è vero allora proviamo a trovare insieme dei modi per raccontare anche queste altre cose nel senso che io sono sempre molto contenta di scambiarmi opinioni con persone che fanno un lavoro simile al mio ma al tempo stesso sono sempre anche molto curiosa e trovo utile sentire persone che fanno cose diverse gli obiettivi perché lo facciamo perché esiste questa comunità sicuramente per condividere metodi e pratiche di buon lavoro e conoscere persone che sono diventate possono diventare colleghi clienti fornitori spalle su cui piangere diciamo superare la solitudine la mitica solitudine dei freelance e una cosa che è stata sottolineata è anche la necessità comunque di continuare a incontrarsi anche fisicamente cosa che penso che insomma se siamo qui evidentemente è importante per chi c'è effettivamente è una cosa che per quanto mi riguarda ho voglia di continuare a fare momenti e luoghi in cui lo facciamo si incontriamoci fisicamente con i freelance camp dal vivo io penso che sia comunque innegabile che mantenere un legame anche attraverso degli incontri periodici online comunque aiuta la comunità aiuta le persone che per motivi più vari magari non riescono a partecipare dal vivo sicuramente quando ci incontriamo in presenza cerchiamo di cercare dei luoghi di proporre dei luoghi che non siano diciamo la sala meeting dell'hotel business ma siano dei luoghi dove è piacevole e bello stare dei luoghi che ci danno anche modo spazio e tempo di fare cose al di fuori dai momenti dei talk quindi diciamo da questo punto di vista il campeggio è un setting perfetto non è detto che sia l'unico l'invito è esplorare e trovare magari anche luoghi periferici anche per uscire poi da quella cosa che tutto succede a milano fuori da milano non succede niente o tutto succede nelle grandi città momenti e luoghi poi comprenderanno a un certo punto anche delle assemblee che saranno anche momenti di monitoraggio e verifica di come stanno andando le cose e se stiamo andando verso stiamo continuando a fornire il valore per il quale siamo nati regole c'è uno statuto ma ovviamente lo statuto dice le cose che devono essere scritte in uno statuto costitutivo e poi ci sono delle regole un po non dette un po scritte c'è un modo di fare le cose c'è una specie di bozza di playbook per organizzare un freelance camp quanto debba essere checklist organizzata quanto debba essere prescrittivo e dettagliato o quanto debba essere semplicemente un'indicazione del risultato che si vuole ottenere penso che debba essere soggetto a sperimentazione ci sono da una parte delle cose molto pratiche molto concrete molte operative da fare ci sono delle cose un pochino più vaghe diciamo come aiuteremo altre persone chi di voi vorrà organizzare degli eventi locali a organizzarli è un po un work in progress abbiamo parlato perché poi ci sono anche degli elementi materiali gli oggetti che in qualche modo cioè sembra una roba secondaria ma poi diventano anche un elemento di riconoscimento cioè quando siamo qui in giro e abbiamo il cartellino abbiamo lo zainetto e abbiamo il braccialetto anche a prescindere da quanto uno possa essere feticista e fare la collezione dei braccialetti o dei cartellini però comunque sono un elemento che ci fa dire anche tu sei dei nostri anche se non ti conosco prima e quindi posso attaccare bottone senza problemi sicuramente la cosa che abbiamo fatto noi in questi anni è cercare il più possibile di produrre utilizzare distribuire degli oggetti riutilizzabili sostenibili insomma il classico porta card di plastica con lo stricchetto di plastica che poi dopo non sai che cosa fare io io mi ci vorrei impiccare ne tanti ne ho però insomma quello per quanto mi riguarda mai però insomma un pochino ci vogliono perché sono quei segni che aiutano una comunità di persone in qualche modo da riconoscersi a vista d'occhio arrivo a una parte secondo me veramente centrale e importante quella dell'energia di cui si nutrono le reti l'energia è un'energia in dare e in ricevere stiamo tutti dentro a tante reti ma nella misura in cui pensiamo che continui a valerne la pena questo significa che la rete ci nutre ci dà conforto divertimento relax condivisione eccetera ma perché continua a nutrirci comunque deve anche ricevere poi quanto restituisce si spera che sia sempre maggiore di quello che le persone ci mettono dentro quando una rete diventa inefficiente e produce meno valore dello sforzo che le persone devono metterci per farla andare avanti si esaurisce muore quindi questo è successo ad esempio non so penso alla storia di certe associazioni di categoria che fino a una certa fase erano le uniche che in qualche modo riuscivano a coordinare del degli interessi collettivi poi quando sono diventate diciamo non più al passo con l'evoluzione dei tempi il valore che davano era molto meno dello sforzo che richiedevano ai loro associati la gente ha smesso di pagare le quote associative è abbastanza naturale allora qual è però l'energia di cui dobbiamo provare a nutrire il freelance camp perché continui a dare molto a noi e non solamente a chi partecipa ma anche a chi lo osserva da fuori vabbè un po di tempo un po di curiosità per cercare contenuti per cercare persone da portare perché partecipino agli eventi perché magari semplicemente facciano uno zoom club e portino valore perché vengano a sperimentare che questo luogo può essere interessante anche per chi fa un mestiere diverso dalla buona parte delle persone che ci sono una parte dell'energia sono anche le quote associative devono fare muovere una macchina che per quanto leggera comunque ha dei minimi costi fissi di gestione l'aiutare le persone a starci dentro nel modo giusto quindi c'era chi proponeva qualcuno potrebbe fare mentoring a chi vuole fare un talk per aiutare a fare talk migliori ottimo il passaparola con cui portiamo persone benissimo la passaparola con cui magari portiamo aziende o soggetti che abbiano voglia di sostenere un progetto come questo e quindi fare una erogazione liberale alla ps per farla continuare a vivere benissimo in base a quanta energia riusciremo a metterci che dipende anche da quanto saremo bravi e brave a continuare a generare valore per tutti continueranno a succedere delle cose magari potremo decidere che ci facciamo tutti la felpa del freelance camp se ci piace se decidiamo che è bello magari potremo decidere che continuiamo a dare una parte delle risorse che raccogliamo per sostenere a nostra volta dei progetti noi quest'anno ad esempio come ogni anno come freelance camp come digital update in realtà in qualità di organizzatore del freelance camp abbiamo fatto una donazione di 1500 euro quest'anno agli alluvionati dell'Emilia Romagna perché ci sembrava assolutamente la cosa giusta da fare ma è una cosa che abbiamo fatto ogni anno da quando è nato il freelance camp nel 2012 erano i terremotati dell'Emilia ogni anno abbiamo scelto una causa a cui destinare una parte dei soldi che raccoglievamo e penso che insomma possa anche questo forse essere un obiettivo cioè se riusciamo a fare anche questo vuol dire che la cosa sta funzionando davvero è tutto in progress e quindi grazie del lavoro che ci faremo tutti e tutte grazie mille grazie a tutti